I carabinieri di Torino hanno eseguito un provvedimento cautelare nel capoluogo piemontese. Otto le persone destinate delle misure, disposte dal GIP del Tribunale e su richiesta della locale Procura della Repubblica, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Vanchiglia, in particolare in piazza Santa Giulia, noto per la movida di giovani studenti e in diversi bar di tutta la città. Individuato un gruppo criminale composto da tre italiani, un tunisino, quattro urbanesi, specializzato soprattutto nello smercio di cocaina. Per sviare le indagini, la vendita e gli appuntamenti erano concordati con i clienti tramite i messaggi WhatsApp e Facebook. Durante le perquisizioni è stato sequestrato un revolver privo di matricola. Grazie. 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 Grazie.